Ciao. Ciao. Come ti chiami? Mi chiami Solena Dari. Da dove tieni? Sono nata in Ucraina, ma adesso abito qua a Cinza. Ah, ti avvicini? Sì. Sei sposata? No. Sei fidanzata? Sì. Sì. Bene, è una situazione che ci piace. Cosa hai studiato, cosa fai nella vita? Adesso sto facendo, voglio aprire il mio salone, fare unghie. Sì, perché io sono estetista adesso. Hai studiato in Italia? No, ho fatto scuola in Praia, due scuole. Una con certificato internazionale. E quindi adesso sarai alla Veniera a cuore un'initazione? Voglio, sì. Quanto tempo hai scritto in Italia? Ho due anni. Siamo venuti? Sì. A presto in Italia. Siamo venuti in Italia? Sì. Sono conosciuti? Sì. Sono conosciuti? Per me sono conosciuti in Italia, adesso?